Un premio giornalistico è arrivato alla quarta edizione, perché la scelta di queste tre figure? Premio giornalistico biennale che si basa sulla figura di Jesse White, Alberto Mario e Adolfo Rossi che sono tre figure lendinaresi e non solo lendinaresi sulle quali abbiamo voluto lavorare in questi anni sia per quanto riguarda la realizzazione del Museo del Risorgimento sia per quanto riguarda questa tematica della ricerca su questo giornalismo di inchiesta che oggi sembra fuori luogo, fuori moda, desueto e invece ha caratterizzato un'attività molto importante, fine 800, inizi 900, per tutto il 900 Queste tre figure ci hanno permesso in questi anni di caratterizzare una fase di ricerca molto approfondita e tanto è vero che abbiamo realizzato il Museo del Risorgimento che è sopra il piano ultimo del nostro cittadino della cultura e un'attività con il mondo dei giovani e delle scuole legata a questo filo rosso che lega questi 100 anni di storia insomma ecco dalla primavera dei popoli fino alla seconda guerra mondiale quindi 100 anni in cui la nostra lendinara ha voluto riconoscere qui non solo attraverso convegni, iniziative o premi giornalistici come questo, proprio anche attraverso una serie di iniziative legate al mondo della scuola perché la memoria, la memoria proattiva, la memoria attiva trasmessa ai giovani è un segno di una comunità che vuole crescere attraverso quindi l'approfondimento, la ricerca, il fare cultura questa responsabilità di fare cultura che diventa anche elemento che consolida l'unità della comunità Un fare cultura che quindi non passa solo per il fare memoria ma per l'incentivare questo tipo di giornalismo passando il testimone di queste tre importanti personalità Sì, certamente quindi dalla cittadella della cultura al museo non solo luoghi di raccolta di documenti quindi non solo un magazzino di cose importanti ma un qualcosa di attivo, cioè un qualcosa che pulsa Ecco, la comunità risponde a questa nostra proposta, a questa nostra provocazione e attraverso quindi la riscoperta di queste figure che sono anche da esempio per le nuove generazioni La biblioteca che da alcuni anni coordino, dirigo dal punto di vista scientifico ha questa particolarità nel panorama della nostra provincia è una storica biblioteca con quasi 250 anni di vita alle sue spalle È sede d'archivio, abbiamo non uno ma più fondi archivistici che si muovono dal Medioevo fino al Novecento quindi anche archivi di carattere contemporaneo ed è anche sede museale da un paio d'anni è ospita un allestimento dedicato alla stagione risorgimentale vissuta a Lendinara e in Polesine, ecco, su un panorama più allargato quindi un istituto culturale che si impegna e che sperimenta anche le reciproche interazioni che ci sono fra biblioteca, archivio e museo Entriamo più nel vivo del concorso Cosa può raccontarci degli articoli, delle persone che si presentano? Dunque, questo è un concorso giornalistico la cui idea risale sostanzialmente a otto anni fa è a cadenza biennale, siamo giunti alla quarta edizione quindi è un evento ormai maturo e che ci pare sta acquisendo anche una sua riconoscibilità e questo è stato confermato anche dagli articoli che ci sono giunti per questa quarta edizione sono articoli da giornalisti che ce li hanno inviati anche da lontane provenienze e soprattutto lo spessore, ha colpito un po' tutta la giuria lo spessore degli iscritti che toccano temi di carattere sociale come prevede il bando però anche particolarmente difficili in alcuni casi emarginati dalle croniche più consuete e anche innovativi per le problematiche che aprono quindi una qualità di partecipazione per questa quarta edizione è veramente notevole La scelta di porre un limite d'età ai partecipanti è una scelta precisa qual è l'obiettivo? È una scelta che caratterizza il premio fin dalla prima edizione ed è una scelta che è mirata al voler dare un incentivo a partecipare al premio soprattutto a quei giornalisti che si stanno affacciando alla professione di giornalista o che stanno ultimando, che hanno da poco ultimato la loro maturazione in questo percorso professionale quindi abbiamo voluto dare la priorità che il concorso fosse una forma di incoraggiamento verso chi si sta costruendo un curriculum come giornalista Grazie mille